Buongiorno a tutti, dove ci troviamo? Siamo a Piana degli Albanesi, in Sicilia, provincia di Palermo. E non sei di Piana degli Albanesi? No, sono di un altro paesino, Arbreche, che si chiama Contessa Entellina, sempre in provincia di Palermo. Quindi tu sei cresciuto, immerso nella cultura Arbreche? Sì, i nostri paesi vivono il rito bizantino, parlano questa lingua che sarebbe l'albanese antico, l'Arbreche. In quante lingue celebri la messa? La celebriamo in tre lingue, l'italiano, l'Arbreche e il greco. Usiamo l'italiano, l'Arbreche, perché questi comuni sono stati fondati da alcune colonie albanesi che fuggivano dall'Albania a causa dell'invasione dei turchi. E abbiamo in questi secoli ancora conservato questa lingua e il greco perché è la lingua liturgica della tradizione bizantina costantinopolitana.